Nell'anno di Capitale della Cultura, Pesaro si rappropria di una delle sue sculture più riconoscibili che da quasi mezzo secolo è una vera icona del lungomare. La Porta Mare di Loreno Sguanci è tornata al suo posto in Viale Trieste dopo un intervento di restauro realizzato in sinergia tra Comune, Quartiere Porto Mare e Lions Club Pesaro della Rovere che ha contribuito al restauro. Un ripristino voluto con forza dalla Presidente della Commissione Cultura del Comune di Pesaro, Anna Maria Mattioli. Ci è stata donata da un grande scultore, Loreno Sguanci, nel 1976 a cui risale la prima edizione e col tempo chiaramente la prima scultura è andata un po' in degrado per cui è stato necessario nel 2013 provvedere alla sostituzione con una copia che comunque resta dello stesso valore dell'originale anche perché è stata ricostruita con i disegni proprio dell'autore. Non è la prima volta che Lions contribuiscono al recupero di opere della città e quindi restituiscono alla città delle opere che avevano bisogno appunto di recupero. L'abbiamo fatto in precedenza, l'abbiamo fatto quest'anno e pensiamo di continuare a farlo perché come ho detto prima il nostro motto, noi serviamo e con questo spirito, con questa finalità che noi cerchiamo di contribuire con azioni e opere a favore del territorio e della comunità pesarese. L'intervento di restauro è stato eseguito dalla cooperativa T41B grazie alla supervisione di Luca Sguanci, figlio dello scultore nonché curatore dell'archivio Loreno Sguanci. Adesso è tornata al suo splendore, è stata alzata, la vediamo in questo momento con due toni diversi, negli interventi di restauro completo sono più chiari, mentre le parti invece a cui è stato dato il protettivo sono più intense di colore. Ma lì è semplicemente la differenza tra un legno stagionato al sole e un legno invece tenero, appena tagliato, quindi l'abete quando viene tagliato è molto chiaro, quasi bianco, poi il sole piano piano lo ingiallisce e quindi nel tempo lo porta e tornerà a un colore unico, avrà un unico tono. Una scultura che rinasce guardando al futuro e conservando l'essenza dell'opera dalla sua installazione originaria. E quando è stata collocata nel 1976 qui non c'era niente, c'era solo un'isola verde e c'era questa lunga direttrice che correva lungo Viale Marconi e arrivava fino al mare. Quindi la porta si misurava direttamente con l'orizzonte del mare, quindi era una porta verso, se vuoi, le civiltà che sono dall'altra parte dell'Adriatico, quindi anche un ponte ideale di unione tra popoli, ma anche il volo dell'immaginario, era un pochino questa la porta a mare. Dopodiché ha avuto un periodo di decadimento, ha fatto sede torerata nel tempo, però è stata recuperata. Ed è stata recuperata la copia, questa è una copia che non ha nulla di meno come valore per il fatto di essere una copia, perché è una copia unica. Ha fatto l'altra, è attenzionata dai beni culturali, perché è un'opera storicizzata, quella del 1976. È un momento di grande emozione, perché Lorraine è stato il mio insegnante, nel 1976 ho visto proprio nascere quest'opera dai disegni, lui ce l'ha illustrata ed è stato per lui un modo anche per educarci all'ammirazione di quello che è la scultura, cercare di trovare all'interno delle trave, all'interno di un blocco di marmo, quello che la scultura vuole venire fuori. Non siamo noi che andiamo a togliere, ma è la scultura che esce dalla materia prima su cui noi andiamo ad operare.